Giorno 22 aprile 2020, ho dato via alla mia vita da viandante, da girovaghi. Per ora la distanza di 200 metri da casa. Oggi sono andato al supermercato qua vicino, all'Ipercop, buonissimo. Adesso mangio la pizza ottimamente buona. Sono andato anche in farmacia e ho fatto tutte le cose qui vicino da sole. In più ho trovato le mascherine a 80 centesimi l'una. Ne ho comperate cinque. Ottime. Sono quasi tranquillo. È il primo giorno che sono uscito. Ora faccio il pranzo alle ore 14 in questa atmosfera diciamo pure bucolica. Sì, la chiamo bucolica. È un tema di campagna. Poi lì ci sono i miei quadri, riprendo l'arte nel pomeriggio. Dopo aver fatto stamattina, ce l'ho fatta, 5-6 chilometri a piedi. Sono riuscito e sono contento. Ora riposo in quest'area. Erba di casa mia. Erba di casa mia.